La tendenza è la stessa degli ultimi anni. Anche nel 2023 i terremoti più forti si sono registrati in mare. E questo ha consentito di evitare catastrofi. Il sisma, con la magnitudo maggiore 5.2, è avvenuto il 1 maggio alle 4.41 nel Martirreno meridionale, a largo della costa Calabra, di fronte alla provincia di Cosenza. Vista l'elevata profondità, 268 km, è stato avvertito debolmente solo in alcune località della stessa Calabria e della Puglia. L'altro evento sismico importante, magnitudo 5.1, è avvenuto a febbraio sulla costa settentrionale della Croazia ed è stato sentito nelle regioni nord-orientali del nostro paese. In totale, nell'anno appena concluso, si sono verificati 16.307 terremoti, 44 al giorno, quasi uno ogni 30 minuti. Ormai questo numero si mantiene costante dal 2019. Sono infatti cinque anni che abbiamo più o meno questo numero di eventi. dopo che nel 2016 e nel 2017 invece il numero di terremoti era molto maggiore a causa in particolare della sequenza sismica in Italia centrale iniziata col terremoto del 24 agosto 2016 ad Amatrice. La regione più attiva dal punto di vista sismico è stata la Sicilia con 181 eventi, quella meno attiva la Sardegna. La regione più attiva è stata la Sicilia con 181 eventi,